Ok, gli uomini qua non hanno niente, andiamo giù Il casco! E vai giù nel fiume che ti trascina Per fortuna dopo MSC crociere hanno aumentato le salute E' veramente una figata così Bello il botto così Eliminiamo un po' di questi studi di robot da quattro soldi Che non sanno niente mirarti Che non ha corta distanza E muori Va bene Ok, socio Allora, becca questo altro suppostone Ciao spettinato Ma forse in quest'epoca dice prendetemi la targa del Titan Ok Mmm, invitante Entro eh Protocollo 1 Unirsi al pilota Collegamento neurale E' detta così Collegamento neurale stabilito Fuciliere Jack Cooper Ora sei il pilota provvisorio di BT-7271 Non hai ragione Protocollo 2 Proseguire la missione Abbiamo l'ordine di riprendere l'operazione speciale 217 Incontrare il maggiore Anderson dell'SRS Rilevo forze nemiche in arrivo Protocollo 3 Proteggere il pilota Ripristino i sistemi critici Scudo vortice attivo Lo scudo vortice cattura i proiettili e i missili in arrivo Rilascia il comando per lanciare gli oggetti catturati contro il nemico Ah che figata Questa non la sapevo Ok Madonna mia ma Scusate Wow che figata Collegamento neurale ok Controllo arma principale e collegamento motore Anche perché qui le stiamo prendendo Preparati Dovremmo combattere per metterci in salvo Bene Uccidiamo qualche cattivo Un atteggiamento positivo non può che migliorare la situazione Ok L'ITAN della milizia è avvistato Numero della UBD 7274 Sparano Sparano E chissà come mai Ah quando colpisci Quando colpisci ti aumenta la potenza del nucleo Ho capito bene Che bel cattone Perfetto Expedition mitragliatrice Blockeri spinge il fuoco Tre squadre di soccorso IMC in arrivo La nostra unica possibilità di sopravvivenza è proseguire la missione e incontrare il maggiore Anderson Fino ad allora saremo soli Guarda il tuo UBD Ah d'accordo sul consigliere Ok ma dove devo andare Ok di qua Che figo che è Dà l'idea proprio di essere all'interno di un bel mezzo grosso Valerio Leivav Valerio Irlav89 Benvenuto Entra quando sei pronto Cooper Registro di Cooper Questo Titan BT-7274 dice che sono il suo pilota provvisorio A prescindere che io sia pronto o no Devo far funzionare le cose o morirò Eh ma va La mia unica possibilità di sopravvivere è proseguire la missione originale di Lastimosa Ciò significa che devo incontrare il suo comandante Il maggiore Anderson della squadra di ricognizione speciale della milizia Mancano altri 60 km Sangue e urgini L'IMC continuerà a cercarci L'unica speranza di sopravvivenza è raggiungere il maggiore Anderson a 60 km dalla nostra posizione Dovremmo adattarci a improvvisare per sopravvivere Fatti strada verso il punto Qui Wombat è 3-2 Stiamo subendo gravi perdite Forze della milizia aiutateci Abbiamo subito pesanti perdite Che figo Che figo E poi puoi anche prenderti lecce Che figata Avrei potuto utilizzare Buona esplose Ah che così guadagni Ah adesso ho capito anche cosa sono quelli Va bene Ho capito che i nuclei per terra li puoi raccogliere Cosa che prima non avevo mica capito durante il mutu slayer E ti riparano Abanzanotte esce Outlast O le minne non cambia molto Allora vediamo di andare oltre Adesso però con voi ti ridiamo un bel sistema Minion che mi hanno spiegato prima Nucleoraptica pronto 3dv per nucleo raffica nucleo raffica attivato si cazzo si cazzo oh che figata che figata va bene ok si capisce poco però che a me piacciono i mecha la seconda gli darebbe la partner di Twitch si perchè sarebbero tanti a guardare lo stream eh mi dispiace ragazzi non andrei da nessuna parte allora presumo che se gli sparo in fumo elettrico figata allora scusate se ripeto tante volte figata ma a me piace un bonto così non va non va vero? vieni qua dov'è? dai brandy buono buono brandy dai checkpoint uh guarda lì che cosa c'è esposizione tone canone a ricerca di 40 mm si pastore tedesco canone a ricerca da 40 mm canone semiautomatico eseguono ganci parziali l'arma di questo titan è avanzata e potrebbe garantirci un vantaggio tattico potrebbe mi sa che qualcuno si è innamorato il concetto di amore negli umani richiede ammirazione attrazione devozione e rispetto conclusione sono innamorato al 50% questo è bello con l'equipaggiamento tone possiamo agganciare i nemici e lanciargli i razzi a ricerca sarà utile nel combattimento diretto grazie pilota, una porta di controllo del flusso ci blocca la via nella struttura dovrebbe esserci un pannello di controllo esci da BT e raggiungi la sala di controllo per aprire la porta di controllo del flusso ok, come faccio ad uscire da BT? boom aia che figata però che poi li puoi aggirare quindi se uno fosse sgamato con il sistema di gioco riuscirebbe a fare di quei questo qua è un fucile Barrett Barrett subito preso e stai zitto ora vediamo un attimo c'è anche il contatore sul display del fucile sto attaccando la panteria ostile ok BT bravo allora IVA auto ci sono anche tutti i vari mod attaccati che puoi avere dopo nel gioco anche multiplayer ok, devo arrivare lì ma va? non direi no no pilota la porta di controllo del flusso allarme fermi tossici nella stanza principale come fermi tossici nella stanza principale attivazione, isolamento di sicurezza, sala di controllo no 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 no